Rappresentare, tutelare, consigliare e promuovere le cooperative di vino in Alto Adige. E' questo l'obiettivo del Consorzio Vini Alto Adige. L'ente è nato nell'ottobre del 2007, conta attualmente 155 aziende vinicole che in totale producono più del 99% dei vini doc del territorio altotesino. I soci del Consorzio fanno parte delle tre associazioni che raccolgono i produttori altoatesini, ossia le cantine, le tenute vinicole e i vignaioli indipendenti. Il neopresidente eletto un mese fa è Maximilian Niedermeyer. Io sono il terzo presidente perché è un lavoro molto difficile, perché dobbiamo unire gli interessi vari, delle varie consorzi che sono uniti nel vino Alto Adige. Sono sicuro che in futuro risolveremo questi problemi. Vedo anche che il vino dell'Alto Adige è amato qui da noi, ma anche in Italia e anche in altri paesi internazionali. Vedo il futuro positivo su questo campo. Il Consorzio consente ai soci di migliorare costantemente la qualità unendo know-how e competenze, collaborando e sfruttando le risorse comuni. Si tratta di una vera e propria piattaforma di scambio per le aziende vinicole che ha lo scopo di cercare sempre nuove soluzioni alternative legate alla presentazione dei vini al pubblico su scala mondiale. Noi puntiamo sui nostri paesi che troviamo già un buon mercato, come Germania, come gli Stati Uniti, e in futuro dobbiamo puntare ancora di più in questi paesi, ma non dobbiamo dimenticare gli altri mercati che sono in Asia, nell'est, anche in Brasile per esempio.